Si torna in campo dopo il trionfo di Venezia e la prestazione che ha permesso a Capitan Brunori di ritrovare in grande stile per tre volte la via del gol. Il Palermo chiude al Renzo Barbera il miniciclo di partite ravvicinate prima della pausa. Per l'ottava giornata d'andata nella struttura di Viale del Fante arriva il Sud Tirol, una ghiotta occasione per i Rosa di ritrovare anche il successo interno dopo lo sgambetto subito venerdì scorso dal Cosenza. Ma anche la chance per rimanere agganciato al treno promozione dove al momento il Parma è saldamente al comando. Dopo quelle che sono state le modifiche alla formazione iniziale nella sfida di Venezia anche per il Sud Tirol ci si aspettano variazioni da Eugenio Corini. Di Mariano e Valente oltre a Buttaro sono sempre indisponibili, le novità più importanti si attendono soprattutto in mezzo al campo dove il tecnico potrebbe far ruotare diversi elementi. Dopo l'ottima prestazione in Laguna potrebbe però essere riconfermato Coulibaly mentre Segre e Stulaz potrebbero ripartire dall'inizio. In avanti di Francesco e Insigne dovrebbero accompagnare Capitan Brunori mentre in difesa rimane sempre l'incognita Mateju. La sfida fra Palermo e Sud Tirol avrà inizio domani domenica alle ore 16 e 15. La sfida fra Palermo e Sud Tirol avrà inizio domenica alle ore 16 e 15. Grazie.